Va bene, senti, ci sono dei registi che quando sono costretti a lavorare con dei piccoli budget, dei budget poveri, si esprimono paradossalmente meglio che quando poi sono immersi in produzione invece molto ricche. Questa cosa, ti chiedo, vale anche per i direttori della fotografia? Assolutamente sì, cioè io devo dire quando faccio un film di un esordiente e cerco di farli ancora adesso, spesso cerco di farli, quando faccio dei film di documentaristi, voglio fare un esempio Leonardo di Costanza per esempio, ecco quelli sono i film che mi danno più soddisfazione perché sono i film che parlano della realtà, sono i film dove ci sono meno costrizioni anche rispetto agli attori o rispetto alla bellezza delle attrici o rispetto ai problemi di budget, cioè probabilmente sono dei budget minori, però sono dei budget, come dire, che sono gestibili in maniera più consona alle necessità del film e quindi io mi trovo nettamente meglio. Cioè in una produzione pesante, grossa, la subisco moltissimo, non interessa, come avrete capito, avere molte luci, mi interessa avere tempo e più è grossa la produzione e meno tempo si ha paradossalmente, perché tutto costa di più e quindi bisogna andare più in fretta. Invece l'aspetto determinante è la necessità di recuperare il tempo, ma non lo dico per me, lo dico per i registi, nel senso che poi io cerco di essere veloce, sono i registi che hanno bisogno di tempo per lavorare con gli attori e io credo che il rapporto proprio tra direttore della fotografia e regista si basi su questo, quanto io meno sarò egoista, cioè quanto meno io occuperò tempo e quanto meglio verrà il film e quindi è un rapporto di generosità, cioè io rinuncio alle mie fretese, fra virgolette, artistoidi e regalo tempo agli attori e registi e il film viene meglio oggettivamente e quindi forse magari potrò fare anche più inquadrature, insomma, però bisogna superare l'egoismo particolare nel proprio settorialità. Senti, dopo tanti film a fare... Mi sto annoiando, lo sai? No, non credo proprio, la tentazione... Dopo tanti film da direttore della fotografia, la tentazione della regia non ti ha mai sfiorato? Mai, cioè io proprio il regista non lo farò mai, mai e poi mai, nel senso che... Io proprio non sento che... No, prima non ho niente da raccontare, casomai farei dei documentari politici, perché questo paese ha bisogno di essere raccontato, ma questo insomma l'avete già capito e non ve lo ripeto, però no, la regia no, assolutamente no, io penso che bisogna... Io sono felice quando mi metto al servizio dei registi con cui lavoro, dopodiché cerco di lavorare a dei film che abbiano un senso, che facciano andare avanti, spero, la realtà, la comprensione del presente e bla 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 e quindi io mi sento pienamente soddisfatto nell'aiutare i registi a raccontare le sfaccettature della realtà. Senti, tu lavori sempre con la stessa squadra, oltre a cambi... Il mio capo elettricista lavora con me da 28 anni, siamo oltre al matrimonio... Come si chiama? No, se da svegli... No, se da svegli... Sì, sì, però è sempre la stessa troupe, poi sono felice anche perché spero di aver formato altri direttori della fotografia giovani, insomma, mi sembra di sì, insomma... Uno? Beh, per esempio Daria D'Antonio, Gogo Bianchi, Gian Enrico Bianchi, Alessandra Pazzo, ma ce ne sono un po' qui, infatti.